Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium a numero 167, invita a valorizzare nell'ambito della pastorale e della catechesi non solo le opere d'arte che ci vengono dalla tradizione del passato, ma anche quelle che lo Spirito Santo suggerisce ispirando artisti nella contemporaneità. Allora proviamo oggi a valorizzare un'annunciazione di un'artista contemporanea, e del 2022. È un materiale che è stato elaborato dall'Equipe degli Uffici Catechistici, l'Equipe regionale della Puglia, coordinata da Don Francesco Nigro, e Don Matteo Losapio, della Diocesi di Trani e Bisceglie, condividiamo insieme dei materiali, ha suggerito appunto di concentrare l'attenzione su questa bella opera intitolata Luce, la fiamma della contemplazione. Allora guardiamo un attimo quest'opera di Laura Macabrescu, nome d'artista di Kamila Kansi, è una polacca, un'opera pubblicata direttamente sui social dell'artista stessa. Abbiamo poche informazioni sul materiale, sul supporto utilizzato, in quanto l'artista stessa ha deciso di mettere in giro, di pubblicare direttamente le sue opere su dei format virtuali. Questo elemento di novità apre anche, lo capite, molte riflessioni sul materiale utilizzato, sullo stile della Macabrescu. Infatti chi volesse approfondire si può notare sulle sue pagine social o sul suo sito internet lauramacabrescu.com che la sua arte di riferimento è la fotografia, anche in questo caso. Fotografia frammista ad opere ad olio o ad acrilico. Una commissione di stili che rende anche quest'opera, si chiama della contemplazione, interessante anche per quanto riguarda lo spazio virtuale etereo in cui viene posta. Prima di concentrarci sull'opera, faccio vedere alcune altre rappresentazioni dello stesso soggetto. Avete capito che viene evocato il testo di Luca dell'Annunciazione. Carattere fotografico in cui ci sono elementi, questa donna, il vestito rosso, la colomba dello spirito, gesti, animali, colori, dal ricco valore simbolico e mistico che bagna un po' nell'orizzonte bizantino della iconografia ortodossa. Torniamo alla nostra opera. Guardiamola, è presente una donna dal volto coperto da una colomba che sembra sussurrare qualcosa al suo orecchio. Questa iconografia, se voi andate a vedere molte opere dove proprio lo spirito presenta al momento l'Annunciazione di Van Eyck, la colomba che va verso l'orecchio di Maria che proprio attraverso l'orecchio, come dicevano i padri, concepisce il verbo, tutto il tema dell'ascolto. Una colomba che reca un annuncio che copre con la sua ombra il volto di questa giovane donna rivestita di un manto rosso. È il rosso del nostro sangue, della nostra umanità, ma anche è il rosso che nell'iconografia orientale è il colore del maforion, di questo manto regale bizantino. È una presenza che illumina. Noi vediamo leggermente la fronte tutta illuminata di bianco, come se questa presenza rendesse luminoso anche il volto di Maria, quasi un anticipo della trasfigurazione. Guardate, la donna è assorta tra il blu del cielo e questo oro che sta sotto i suoi piedi, questa specie di tappeto rosso che sembra leggermente, vedete, con i piedi di Maria, muoversi sotto i suoi passi, un leggero dinamismo appena accennato, come quello della vita che germoglia all'interno del grembo di una donna, una vita divina, una donna inattesa, come Maria che da il suo sì comincia a far abitare, come nel tempio lei diventa l'arca della presenza divina. Ci troviamo di fronte all'annuncio che accende in Maria, guardate nella mano, la fiamma della contemplazione che è titolo appunto dell'opera, dove l'autentica protagonista di questa opera è proprio questa fiamma che brilla nel palmo di questa donna, quella fiamma che viene mostrata all'esterno ma che si accende dentro di lei e che rivelerà poi nel sussulto del Battista quella gioia di una promessa che si realizza in con lei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Bellissimo questo ascolto con la beatitudine di Maria. Quelle parole che Maria da parte sua osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Laura Macabrescu sembra riportarci proprio qui. alla fiamma viva di una contemplazione incarnata. Vedete, dove nel volto di Maria possiamo allora rispecchiare il nostro volto verso cui l'annuncio del Signore che viene giunge ancora attraverso la colomba dello Spirito. Osserviamo il dettaglio. Sembra volerci riproporre proprio, ripeto, la simbologia delle antiche icone senza imitarla o riproporla. soltanto riproponendone in una composizione stilistica originale, nuova, che offre anche possibilità di riflessione a proposito di quanto è avvenuto nella nostra sorella Maria, nostra madre, arricchendoci così di ulteriori significati che è possibile far nostri in una fiamma di contemplazione che vogliamo interiorizzare anche noi. La donna seduta sulla sedia, vi dicevo, può farci contemplare queste due immagini della presenza dello Spirito, quello della fiamma di Pentecoste, quello della colomba che scende nel battesimo di Gesù, ma che nell'evento dell'annunciazione su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, colui che nascerà sarà dunque santo. Il racconto evangelico non ci fornisce notizie, informazioni precise su quello che stesse facendo Maria né in quale posizione si trovava. Noi abbiamo annuncezioni in cui Maria è in piedi, le nostre formelle della Basilica di San Zeno, altre volte che è inginocchiata, infinite, sono la bellissima pala del Ridolfi che c'è a Castelvecchio, o Maria seduta. La vediamo per esempio nelle rappresentazioni, cito quella di Martino da Verona in Santo Stefano. Quando l'angelo l'ha visitata, noi cogliamo questa donna che si avverte in presenza di questa dimensione divina. Tuttavia non possiamo essere tentati a credere che Maria fosse realmente seduta in un trono, perché Maria era di Nazareth, era di una casa provinciale, modesta, quando una ragazza di un umilo e paesino di provincia non dispone di un trono in casa. Quando la vediamo raffigurata nelle annunciazioni seduta sul trono è perché questo è già una rappresentazione, un'interpretazione del dogma mariano, di Maria, madre di Dio, Gesù, vero uomo, vero Dio, concilio di Calcedonia. Qui il trono invece è sostituito da una semplice sedia di legno, però Maria è lei, qui vediamo solo il dettaglio, è lei la sede, la sede della sapienza. E il suo essere anticamente rappresentata seduta, come nel nostro caso, sta a significare la sua dignità, ha conferito lei dal suo assenso alla volontà divina che l'ha resa madre di Dio. Allora, tornando al generale, possiamo evitare pensando che quando anche le nostre scelte corrispondono, corrispondono, corresponsabilità a quella proposta di amore che Dio ha per ciascuno di noi, pure noi riflettiamo la sapienza di Dio con la nostra vita, nella nostra vita. Sedia di legno potrebbe allora farci ripensare alla sapienza degli umili, dei piccoli, che ha mosso alla lode lo stesso Gesù. La colomba, chiaro simbolo della presenza dello Spirito, nell'immagine, come copre il volto di questa donna, può coprire anche il nostro. Maria ha trovato grazia presso Dio, ma è pur sempre una figlia creata e come Mosè rivolge altrove la direzione del suo sguardo, mentre la gloria di Dio realizza le sue promesse. Così pure vorrei farvi notare un altro particolare, quello dei piedi nudi. In una postura, vedete, che comunica anche timidezza, riservatezza, riservatezza. Anche qui possiamo fare eco a Mosè che divanti, davanti al loro vetto ardente, è invitato a togliersi i calzari, perché alla presenza di Dio, quel suolo che stava calpestando era un suolo santo, questa color oro nell'opera è proprio espressione di questa dimensione divina, ma anche l'immagine dello Spirito Santo che copre il volto umano della donna potrebbe anche significare la manifestazione della somiglianza divina. Immagine e somiglianza in quanto testimonianza visibile di questa progressiva deificazione dell'uomo che ascolta e mette in pratica la parola. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Maria diventa la prima icona. Vedremo solo quando nelle rappresentazioni dell'assunta la sua dignità elevata fino al cielo come questa presenza divina come un lievito trasforma la pasta della nostra umanità e la rende buon pane. Solitamente nelle icone antiche Maria è anche rappresentata nella tradizione bizantina con un gomitolo umano come se volesse tessere la presenza della tela che custodiva l'arca nel tempio adesso non c'è più bisogno di tessere quella tela perché lei comincia a tessere nel suo grembo la nuova presenza di Dio invece del gomitolo in mano qui dicevamo c'è questa fiamma la fiamma nella contemplazione un'ultima cosa il fuoco il fuoco che nell'antico testamento può anche suscitare sentimenti di timore di sconcierto nel nuovo testamento la sua simbologia è maggiormente associata a significati positivi come la luce l'amore pensate la presenza dello spirito a Pentecoste le lingue di fuoco nell'immagine la fiamma posta al centro di quest'opera nella mano di Maria allude a questo mondo trascendente che si fa prossimo un Dio nelle nostre mani addirittura un Dio in noi che attraverso il grembo di Maria viene ad abitare in mezzo a noi l'Emmanuele il Dio con noi c'è un filo rosso che collega tutta la storia di Maria ed è la fiamma della contemplazione è con lei che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore una fiamma invisibile che si accende in Maria una fiamma che possiamo contemplare anche noi nella nostra storia quando i palmi delle nostre mani si rivolgono verso l'alto e verso l'altro quando il nostro ascolto della parola si fa preghiera accoglienza mani che si aprono e che rendono visibile l'invisibile promessa di Dio nella nostra vita e allora vi invito a concludere con questa preghiera di Papa Francesco che vogliamo proprio fare nostra la conclusione di questa breve meditazione padre che sei nei cieli la fede che ci hai donato nel tuo figlio Gesù Cristo nostro fratello e la fiamma di carità effusa nei nostri cuori dallo spirito ridestino in noi la beata speranza per l'avvento del tuo regno la tua grazia ci trasformi in coltivatori operosi dei semi evangelici che lievitino l'umanità e il cosmo nell'attesa fiduciosa dei cieli nuovi e della terra nuova quando vinte le potenze del male si manifesterà per sempre la tua gloria la grazia del giubileo ravvivi in noi i pellegrini di speranza all'anelito verso i beni celesti e riversi sul mondo intero la gioia e la pace del nostro Redentore a te Dio benedetto in eterno sia l'ode e gloria nei secoli Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.